speciale Vivi Città trentaseiesima edizione buongiorno e dagli studi di Radio Uno Sport entriamo su Radio Uno da il via alle molte città in cui si corre Vivi Città con noi Vincenzo Manco il presidente dell'UISP buongiorno buongiorno grazie a voi e la prima volta nell'ottanta quattro fu Sandro Ciotti a dare il via alla Vivi Città radiofonico in qualche modo e fu un evento eccezionale per la prima volta si partì tutti insieme dopo quindici anni a dare il via sarà un uomo che è stato protagonista di Vivi Città ma soprattutto di un'Olimpiade a Seul nell'ottantotto vincendo l'oro eh nonché della Maratona di Boston beh un corridore per Antonomasia buongiorno a Gelindo Bordin buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutti quelli che stanno per partire Gelindo noi a breve daremo questo questo via questione di un paio di minuti faremo un conto alla rovescia insieme e sarei quindi tu a dare il via a questo Vivi Città prima un un ricordo credo che sia dovuto un ricordo a una persona che con te ha corso molto che era con te a Verona una persona che ci piace ricordare Loris sì Loris purtroppo ci ha lasciato per naturalmente è stato un grande compagno un sempre assieme in quindi qui a Verona è un grande atleta e un grande talento oggi lo ricordiamo e lo abbracciamo tutti Loris Pimazzoni rimasto famoso per aver bruciato e ci sono ancora nelle foto gli sguardi sorpresi di due grandissimi corridori uno era Francesco Panetta e l'altro Alberto Cova in un campionato italiano nell'83 riuscì a batterli nei diecimila metri forse il miglior modo per ricordarlo è questo sguardo sorpreso che oggi in qualche modo si traduce in un ricordo sì è stato è stata una una grande sorpresa quel giorno ma Loris ha un grandissimo talento purtroppo non è riuscito a esprimersi al massimo secondo me però oggi insomma è stato un un compagno di tanti di tanti che oggi anche saranno sulle storie a correre e purtroppo ce la sono troppo presto e qualcuno lo ricorderà oggi correndo Vivi Città fra circa 20 30 secondi cominceremo questo countdown Vincenzo Manco si parte per la quindicina volta attraverso la radio ma è una storia molto più lunga quella di Vivi Città sì la trentaseiesima edizione la 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 corsa più grande del mondo per questa caratteristica che fin dall'inizio ha dimostrato di avere cioè quella di correre in contemporanea in tantissime città italiane e del mondo quindi un risultato forte continuare a mantenere diciamo con la freschezza che ancora oggi il Vivi Città dimostra come come gorsa podistica e come anche grande partecipazione di cittadini è sicuramente un grande traguardo insomma una corsa ancora giovane nonostante l'età assolutamente sì e quindi adesso ci preferiamo a dare il via ad Ancona a Ostarco di Trento Arezzo Bari Bra Brescia Cagliari Civitavecchia Enna Ferrara Frosinone La Spezia Latina Livorno Matera Messina Mestre Padova Palermo Pesaro Pescara Ragusa Reggio Emilia Salabraganza Salice Terme Saracena Siena e Trapani allora Gelindo siamo pronti per questo countdown dal dieci allo zero con una via che sia come dire sonoro ok un via olimpico quando dimmi tu quando comincio quando vuoi dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno via e in bocca al lupo a tutti grazie a Gelindo Bordin è partita quindi è questa edizione di Vivi Città lo ricordiamo il primo Frussandro Ciotti quindici anni fa oggi Gelindo Bordin chiude questo ciclo noi proseguiremo questo racconto su Radio Uno Sport collegandoci con molte delle città in cui si corre e vi ricordo che per la prima volta ci sarà una classifica che verrà in cui si utilizzerà una compensazione dei tempi tale da dare un vincitore assoluto che sarà assolutamente certo noi abbiamo ancora sì dieci quindici secondi in realtà per ridare la linea a Radio Uno ci piace ricordare che si correrà anche in istituti penitenziari a Catanzaro non si corre ma si correrà a Milano nella casa di reclusione di Bollati a Monza nella casa circondariale la linea torna a Radio Uno noi proseguiamo su Radio Uno Sport noi adesso a breve potremo sentire Stefano Mei che è stato un altro dei protagonisti di Vivi Città oggi veste altri panni spesso già che Cravanta ha dismesso da qualche tempo insomma i pantaloni corti e poi piano piano sentiremo in alcune città che cosa accade immagino però l'atmosfera sia quella di sempre è un Vivi Città che è la corsa più grande del mondo perché insomma che si che si correrà poi in in altre città fuori dalla da questa giornata ma prosegue in qualche modo no dal da dal Libano con Beirut a queste particolarmente legati per molti motivi Stefano Mei è già collegato con noi buongiorno Stefano buongiorno buongiorno ciao ti sei alzato a poco o c'è mal di cuore? Mi avete alzato voi quindi va bene Stefano avevamo con noi Gelindo Bordin poc'anzi che ovviamente ha voluto ricordare Loris Pimazzoni è certo è certo è certo a me un ragazzo fantastico ma è una parola fuori posto un talento forse inespresso per quello che che poteva valere ma tutti lo ricordano solo per quella Beffano cosiddetta nei diecimila è come no Coba e Panetta a Coba e Panetta però era veramente un'atletta molto interessante ecco avercene oggi di atleti di quel genere una decina non sarebbe male è un veramente una perdita brutta brutta Stefano e vuoi ricordarci quello che è stato per te e quello che secondo te è oggi Vivi Città? Diciamo che la formula era rivoluzionaria molto interessante e lo testimonia il fatto che molti atleti di primo piano si spesero immediatamente per partecipare io ricordo due a distanza con Salvatore Antibo e con lo stesso Gelindo con tanti altri personalmente io poi ebbi allora siccome il campo di la spezia era ancora in terra rossa quindi i grandi miti non se ne facevano e avevo un modo in qualche diciamo in una certa maniera di misurarmi anche in una gara diciamo così internazionale o comunque più che a livello nazionale con altri atleti nella mia città e quindi mi piaceva moltissimo avevo in qualche modo ecco era una pastella che io che sono molto legato alla mia città riuscivo a fare alla spezia e infatti credo di avere tre partecipazioni sai che poi ero sempre infortunato quindi tre partecipazioni per me dall'86 poi sono tante tre partecipazioni alla spezia una volta andai a Bari quindi io mi rimane uno dei bei ricordi della mia carriera anche se ovviamente era una formula un po' particolare sì le classifiche alla fine venivano stilate però erano un pochino come si può dire un po' particolari no perché è ovvio che diciamo imperfette mentre invece questa volta con questo tempo compensato grazie alla scuola dello sport coordinata da Sandro Donati avremo un tempo assolutamente certo del vincitore assoluto tra l'altro con dei risultati da parte di Stefano Meia anche interessanti dell'88 e l'89 secondo terzo posto quindi stiamo parlando sì sì però è ovvio che non corri vicino al tuo avversario quindi un po' particolare però era bella come formula c'era interessante e ci dava comunque ecco anche dal è un po' come corre al cronometro no in certi in certi momenti soprattutto per noi un pochino più forti perché sapevi che magari nella tua nella tua sede avresti vinto facilmente e però sapevi anche che questa vittoria non ti assicurava una vittoria una vittoria fatale quindi era ecco una specie di cosa cronometro se passate il termine però ripeto poi vedere tanta gente così parlo per la spezia che allora era un pochino eh non c'erano queste tutte queste masse tutta questa massa di persone che andavano a correre era una bella cosa ti ripeto anche come fenomeno sociale e poi mi piaceva come tempo detto correre a casa e quindi eh mi dava mi dava gusto ecco molto bello allora Stefano grazie infinite per questa testimonianza questo ricordo grazie grazie a voi buona giornata e quindi insomma abbiamo tanti personaggi l'altro giorno abbiamo sentito Alessandro Lambruschini un protagonista del delle siepi che riuscì a vincere una medaglia olimpica insomma Panetta ha vinto mondiale ma l'olimpiade non ha preso medaglie mai e lui invece riuscì a prendere questa medaglia di bronzo che fu in qualche modo un episodio clamoroso no? Si definì il primo degli umani, dei terrestri all'epoca. Esatto. Per quello che diceva Stefano Mene approfitto cogliendo l'occasione le cose che dicevi tu prima Sandro c'è una festa vivicità è una festa gioiosa oltre che essere una corsa competitiva. Intanto volevo che mi ricordassi anche tutti perché tra l'altro scegliete di associare ad ogni città una come dire una particolare attenzione rispetto ad un valore. Assolutamente e il vivicità è sempre stato questo è evidente che parte nel 1984 con questa grande impronta diciamo di richiamo di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale c'era diciamo la sensibilizzazione di questo valore non era ancora forte come lo è oggi non c'era diciamo il rischio anche se già si poteva prevedere di quello che è diciamo come dire oggi la pericolosità ecco legata al clima e legata diciamo a quelle che sono anche i dati rispetto al tema della sostenibilità ambientale però è sempre stato. La prossima volta faremo invece magari abbinerete i ragazzi che hanno protestato per l'assenza di un pianeta B. Esatto con la grande con la grande Greta Thunberg e tutti gli altri diciamo che hanno caratterizzato quella quella giornata di di forte sensibilizzazione. Basterà coinvolgere Stoccolma. Basterà coinvolgere Stoccolma esatto e quindi sicuramente fare fare un'iniziativa specifica però ecco come quest'anno abbiamo voluto abbinare il valore dell'uguaglianza e diciamo assegna associandolo alla nostra campagna tesseramento l'uguaglianza in gioco perché la forbice delle disuguaglianze si sta allargando tantissimo con il rischio anche di mettere in crisi i legami sociali che caratterizzano poi una una comunità come la nostra come come tutte le comunità quindi si corre si passeggia si cammina si parla si discute ci si confronta sempre su un valore specifico ecco da 36 anni il vivicità è questo. E noi adesso abbiamo collegato con noi Santino Cannavo da Messina buongiorno Santino Cannavo. Buongiorno buongiorno. Ciao Santino. Si corre avendo avendo come tematica principale l'ambiente. Sicuramente ma credo che in questo momento in particolar modo ma vi sentivo proprio che ne stavate parlando il tema ambientale e all'inizio diciamo il tema principale di tutte le agende europee e mondiali quindi anche in sede locale diventa estremamente importante trattarlo e lo sport è un elemento trasversale che ha la capacità di insinuarsi dentro la società di di mettere dentro i cittadini anche del dei grandi punti interrogativi e ricondizionarli a delle azioni dirette per una trasformazione del modello di vita. E certamente poi per voi correte a chilometro zero nessuno arriva da altre parti quindi è già un elemento correre è già di per sé una un'azione a impatto zero se si escludono adesso no c'era una battuta di Bordino una volta dice noi inquiniamo solo con le flautolenze ogni tanto ma insomma adesso non vorrei. Ma io dico non solo non solo il correre è un'attività che ha un impatto ambientale diciamo ridotto ma principalmente il correre ti riabitua a rivivere la tua città che in termini poi di azioni concrete di riqualificazione urbana di mobilità sostenibile diventano degli elementi importantissimi. Noi qui eh a Messina e in particolar modo si è fatto un progetto di alternanza scuola lavoro con un liceo con liceo Wainis eh appunto sui temi della mobilità sostenibile è un fattore determinante è stato vivicità. Vivicità come modalità per fare educazione ambientale. Noi qui a Messina si corre il vivicità ma il vivicità ha la caratteristica di essere un'azione di formazione ambientale per i partecipanti e per tutti quelli che ci stanno lavorando quindi un laboratorio concreto di un modello diverso di fare uno sport sostenibile. Ah assolutamente sì. Grazie a Santino Cannavo da Messina. Grazie. Grazie. Vivicità la trentasesima edizione che si corre si sta correndo in questo momento mano mano poi cercheremo di capire in che termini e in che modi la classifica alla fine sarà e noi la daremo ovviamente per la prima volta sarà stata fatta con un tempo compensato. Adesso abbiamo in collegamento con noi la direttrice del carcere di Bollate a Milano Cosima Broccolieri. Buongiorno direttrice. Buongiorno salve buongiorno a tutti. Allora è un'esperienza questa della del correre nelle prigioni nelle carceri che si è sviluppata anche grazie a vivicità in tutti questi anni e si ripete anche quest'oggi. Sì eh sono diciassette anni che organizziamo all'interno del carcere la la costa con vivicità. Eh ma è un elemento come dire rilevante no? È denso di di molti valori immagino. Eh beh sì insomma lo sport è importante per tutti è importante ancora di più per le persone che sono detenute in carcere che vivono all'interno di un perimetro e ehm è una medicina in sostanza no? E poi attraverso lo sport eh passano anche degli altri valori delle altre delle altre esperienze ecco che si fanno eh il fatto di stare insieme di cosere insieme di condividere insieme questa iniziativa. Ed è un momento per ritrovarsi fuori diciamo si valutano molti aspetti come appunto l'impatto zero il fatto che si corra ognuno nella propria città no? In un in un unione che è fatta da altro in questo caso è un modo per sentirsi un po' fuori dalle mura? Sì per sentirsi fuori dalle mura e anche per sentirsi parte comunque di una comunità perché il carcere è parte della città è parte della comunità e anche le persone che sono le persone detenute insomma eh come dire vogliono sentirsi almeno per un giorno ma insomma per fortuna ci sono tante iniziative abbollate che consentono comunque alle persone di sentirsi non completamente emarginate o comunque eh si cerca insomma di superare questa emarginazione tradizionale eh del carcere. Vuole raccontarci qualcosa di particolare un di questi di tutti questi anni di di corsa all'interno del carcere? C'è qualcosa che le è rimasto più impresso? Ma mi sorprende sempre e mi sorprende piacevolmente la grande partecipazione. Oggi sono 600 persone più o meno che si sono iscritte a partecipare alla gara e sono sempre state molto davvero molto numerose e quindi tutte le volte penso a questa voglia proprio di non tanto di mettersi in gioco nella corsa ma anche questo questa voglia questo desiderio un po' di eh partecipare a a questa a questa giornata no? E a questa giornata un po' di libertà all'interno anche se eh soltanto si va soltanto nella zona del carcere comunque eh comunque insomma è questa questa voglia comunque di 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 partecipare a questa di stare tutti insieme ecco quindi mi sorprende tutte le volte e devo dire che eh le persone sono sempre molto molto contenti alla fine della giornata lo sono contenti sono contenti anche anche contento anche il personale che è presente all'interno dell'istituto che vede comunque questo grande entusiasmo questo grande entusiasmo delle dei detenuti sicuramente si guadagna qualche sorriso in più Vincenzo Manco voleva dire qualcosa? Sì un ringraziamento particolare alla dottoressa Boccolieri perché questi diciassette anni di esperienza col carcere di Bollate sono state possiamo davvero definirli un punto anche di avanguardia io ricordo una grande eh un grande momento una grande giornata in cui noi abbiamo svolto il consiglio regionale della Wisp quindi diciamo portando dentro un nostro eh come dire un organismo dirigente di fatto insomma una trentina di consiglieri e appena dopo alla fine anche un pranzo consumato all'interno del carcere preparato tra l'altro da dalla popolazione appunto carceraria devo dire anche avendo fatto per cinque anni il cameriere anche con grande efficienza e grande professionalità insomma se posso anche dire questo ecco il vivicità diventa questo giustamente la dottoressa Boccolieri diceva è come dire il dare un'opportunità ecco a chi ha per un certo periodo della propria vita diciamo un problema di restrizione della propria libertà l'occasione di poter di sentirsi parte comunque integrante di una comunità e quindi di rompere il muro che in quel momento in quel periodo della propria vita chiaramente divide lo spazio della propria libertà ecco il vivicità diventa anche questo un'occasione per poterla comunque vivere per alleggerire quella situazione quella condizione diciamo di corpo e di mente una delle molte possibili interpretazioni declinazioni di un termine importante come dovrebbe essere quello dell'inclusione in qualche modo esattamente dottoressa è d'accordo sono d'accordissimo sono d'accordissimo io ringrazio veramente la UISP e ringrazio veramente la comunità esterna che si dà tanto da fare all'interno del cacciare perché è grazie soprattutto alla comunità se si riesce anche a hanno tornato a come dire emancipare ecco diciamo così a cercare di emancipare le persone anche facendo in modo che possano così avere delle altre possono avere delle altre opportunità e possono avere anche un possono costruirsi un nuovo progetto di vita insomma sicuramente l'esterno che entra in calcere è assolutamente importante perché altrimenti da soli insomma solo l'istituzione presidenziale non riesce da sola effettivamente ad attuare quello che è il dettato costituzionale quindi è molto importante insomma l'ingresso della città in calcere perché non soltanto contribuisce a migliorare le condizioni detentive ma poi davvero è un'occasione di incontro per le persone svenute e noi sappiamo quanto è importante l'incontro no per tutti noi il fatto di incontrare delle persone che vivono al di fuori consente di avere insomma delle altre occasioni delle altre opportunità e pensare che anche un altro futuro è possibile. In il caso aggiungerei un grazie a lei che queste porte in qualche modo le ha aperte accogliendo l'idea di vivicità ormai da tempo e si continua a farlo per cui grazie infinite grazie a Cazia Boccolieri la direttrice del cliente del carcere di Bollate. Insomma sono esperienze rilevanti io aspetto indicazioni da Edmondo Cotta a questo punto dovremmo andare salvo pausa. Prego? Ah perfetto quindi siamo andati a andiamo a Ferrara città molto cara Vincenzo Manca. Pronto buongiorno? Sì buongiorno buongiorno Sì buongiorno a Ferrara. Ciao Manu. C'è un gran sole anche lì. Ciao ciao. Sì un gran sole un'aria un po' frisantina però insomma si sta bene è già partita la parte dei più piccoli e quindi i bimbi hanno già fatto il primo giro e questa è un po' l'attività e siamo in attesa poi della partenza delle dieci e trenta. La cosa bella sono tanti i colori tantissima insomma gente e molte donne sono organizzate soprattutto con i gruppi di cammino, nordy walking e eccetera quindi questa è la l'immagine di Ferrara. Variegata, policroma e ricca di di spiriti. Allora eh per quanto vi riguarda il tema principale è quello delle donne no? In qualche modo la scelta è caduta su un tema assai attuale direi sempre attuale per la verità insomma. Sì anche perché dobbiamo dire che Ferrara ha una bellissima cultura sportiva proprio anche legata al codismo è fatto forse delle mura ed è come dire un impianto all'aria aperta per tutti e per tutte e camminare fare attività motorie quindi gruppi di cammino nordy walking ha coinvolto molto le ragazze, le donne in modo particolare. Questa poi è anche una politica della WISP quella appunto di vedere i tempi di ciascuna e di ciascuno per poterli coinvolgere e qui insomma Vivi Città dà possibilità di appunto dare prova di questa di questa cultura e di questa storia. Poi ci sono lo stesso ovviamente anche atlete che corrono per la 10 chilometri quindi grande attenzione. Tra l'altro la cosa bella è che le società sportive stanno facendo proprio progetti specifici per coinvolgere le ragazze e le donne quindi anche gruppi che partono a velocità diverse con attenzione quindi questa è una cosa che davvero sta crescendo e ci sembra appunto una cosa importante. Vivi Città dà questa opportunità ecco quindi continuiamo così a coglierla. Esatto 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 quindi penso che insomma sia la caratteristica di questa grande manifestazione quella dove tutti e tutte possono partecipare con il proprio tempo e la propria voglia di insomma di muoversi e questa è una cosa. Infatti la cosa bella è proprio che sia questa. Infatti io qui davanti ho dei gruppi che poi camminano. Infatti non è la corsa quindi è anche perché soprattutto le persone anche un po' più anziane è un modo per appunto per partecipare per fare attività e quindi questa è una cosa che sta diffondendo molto. Bene ognuno col suo passo. Grazie infinite da Ferrara. Grazie a voi. Ciao Manu. Altrettanto e soprattutto quindi adesso abbiamo già Michele Di Gioia da Matera questa città della cultura e ovviamente quest'anno il tema è quello della interculturalità quindi le culture che si incontrano. Buongiorno Michele Di Gioia. Buongiorno buongiorno a voi. Matera tutto pronto partita la prima gara quella competitiva che è alle 9.30 ovviamente avete già detto bene il tema è il tema della cultura e soprattutto l'interculturalità. Abbiamo volontari europei che sono qui con noi e stanno collaborando per un progetto che mette al centro la rigenerazione urbana attraverso azioni di gioco, sport e arti di strada e di città quest'anno cade proprio in una ricorrenza particolare. Infatti noi abbiamo utilizzato questo momento per permettere alla città di riversarsi in piazza nelle strade e di partecipare non solo camminando o correndo come voglia ma anche partecipando a giochi attività che abbiamo immaginato possano essere come dire un segno distintivo quest'anno per la città e per la nostra partecipazione presente sul territorio. È tutto un gioco un meraviglioso gioco che in qualche modo unisce e poi ecco ripeto nel nel luogo in cui quest'anno si celebra no la cultura mi sembra fondamentale considerare che la cultura non è una ma o meglio è una ma fatta di molte di molte versioni di molti aspetti. Assolutamente anzi eh attività come quelle appunto del gioco dello sport sono dei linguaggi universali che facilitano la partecipazione quindi cultura per noi è riappropriarsi dei luoghi riappropriarsi delle tradizioni e soprattutto vivere e partecipare alla città da cittadini attivi. Mi sembra un messaggio che possa calzare in maniera coerente con la idea di cultura che noi pensiamo possa essere importante diffondere attraverso il messaggio del 2019. E anche attraverso il correre. attraverso il correre che ovviamente unisce la partecipazione attiva all'attività fisica che non guasta mai anzi è un momento per cui si possa anche socializzare e vivere bene. Grazie ancora che sia una buona giornata di corsa passeggiata di cammino ma insieme. Grazie grazie ancora grazie. Grazie a Michele Di Gioia con Matera beh le dieci sono un appuntamento rilevante insomma no? Quindi è giusto rispettarlo a breve sentiremo forse Giacomo Leone poi piano piano andremo verso quello che è il chiudere al chiudersi di questa gara lo ricordiamo diecimila metri tra l'altro in origine erano dodici chilometri no? Ci sono stati molti anni. Dodici chilometri quest'anno è stato un po' l'elemento di di novità abbiamo fatto una riflessione su questo e ci siamo poi diciamo ecco corretti su questa su questa distanza visto che la stessa è anche riconosciuta diciamo nei circuiti internazionali e quindi come come diciamo come tale vale poi anche con diciamo come valore appunto assoluto nella classifica compensata esatto una distanza olimpica quindi abbiamo fatto questo siamo anche intervenuti grazie all'istituto di scienza dello sport del professor Sandro Donati anche sul ricalcolo dei di quelli che sono stati coefficienti in pratica del che che riguardano anche il percorso si è intervenuti appunto su quello che è la parte diciamo delle diversità altimetriche dei percorsi e quindi questi due elementi di novità quest'anno stanno caratterizzando diciamo questa corsa insomma. Anche l'elemento meteo se fa più caldo meno caldo se piove su quello facciamo sempre delle macumbe diciamo e quindi quest'anno pare che sia andata bene almeno da nord al centro al sud. Insomma è un po' come il rating delle barche a vela no? Quando si sono le regate in tempo compensato proprio perché c'è un rating assegnato ad ogni barca in questo caso il rating è stato assegnato ad ogni percorso. È un lavoro complesso e non facile. No anzi ed è appunto la caratteristica da sempre delle vivi città insomma quindi ci teniamo a conservarlo nel miglior modo possibile diciamo. In ogni caso è stato Sandro Donati che in qualche modo coordinato tutta questa attività e noi abbiamo adesso un collegamento da Bari se non vado e se non ho capito male sì perfetto con Veronica Dauria buongiorno Veronica. Buongiorno buongiorno a tutti. Beh Bari sarà una giornata fantastica immagino con un mare meraviglioso. Sì sì una giornata fantastica un bel clima un mare meraviglioso ma soprattutto una meravigliosa folla di persone che ha appena tagliato il traguardo quindi esco da un momento emozionante di pochi istanti fa bellissimo quasi oltre 3000 partecipanti tra non competitiva e competitiva e anche diversi amici a quattro zampe della Dogrand diversi quasi 200. Eh beh gli amici a quattro zampe sono la consuetudine anzi avvisateci quando capiterà che ci sia un animale a due zampe no? Non so uno struzzo un bipede accompagnante. Prego? No era una battuta nel senso che i cani partecipano a biblicità credo dalla prima edizione no? Sempre stato quindi allora dicevo magari un giorno ci sarà addirittura qualcuno che proverà con uno con uno struzzo domestico. Ci inventeremo anche quello. Ci caratterizziamo anche per per l'amore per gli animali e in particolare negli ultimi due anni abbiamo valorizzato anche il valore dell'animale d'affezione che è il cane insomma. Si arrabberanno quelli che invece hanno i gatti però eh glielo dico prima. Sì sì ma i gatti diciamo sono poco anche se sono velocissimi ma sono poco prestanti da questo punto di vista. Sono poco disciplinabili. Adesso in questo momento sto vedendo eh hanno iniziato la passeggiata ludico motori e ci sono famiglie con carrozzini eh bambini in tenera età eh bellissimo è bellissimo è bellissimo vedere la città che si muove e che vuole muoversi. Quest'anno proprio il record di partecipazione appari. Beh questo è già un sintomo e poi in ogni caso così si capisce che la città può essere vissuta anche andando a piedi insomma no? Sì la città deve essere vissuta andando a piedi. Noi ci chiamiamo WISP e eh non dimentichiamo la nostra vocazione, il nostro tratto identitario che è quello di promuovere i tani fili di vita. Io per prima vado a lavoro a piedi quindi io dico a tutti i cittadini vivete la città. Vivi città per questo. Eh. Abbandonate le auto. Meno inquinamento e più salute. E soprattutto un po' più di tempo per come dire elaborare il pensiero che c'è. Certo ma il la camminata aiuta anche a concentrarsi ad ad elaborare a riflettere a rilassarsi. Allora grazie infinite Veronica Dauria. Grazie. Ciao Veronica. Grazie a voi. Grazie. Salve. Ciao. Quindi cominciamo a avere già gli arrivi dei dei primi insomma no? Di quelli un pochino più veloci e piano piano poi riusciremo ad avere anche la classifica. Simone Simone Ricciardi da Pesaro. Buongiorno Simone. Buongiorno buongiorno a voi. A Pesaro che aria tira. A Pesaro c'è del tempo per quanto riguarda il clima e siamo abbastanza distesi stiamo aspettando i primi. I primi che ormai arriveranno a minuti tre quattro minuti cinque minuti li aspettiamo qua. È una bellissima manifestazione. Pesaro è una città che si riconferma quello che è cioè la città della corsa e dello sport. Si fregia di questo di questa nomea e questa mattina l'ha dimostrato quasi cinquecento partenti che per una città come Pesaro non è poco a questa edizione di primi città. E Pesaro che città di molti sport soprattutto si allarga un po' no? Nel nel circondario c'è un po' di tutto dalla scherma all'atletica ha fornito grandi campioni nella sua storia ma oggi come come l'avete vissuta? Sta dicendo un record di partecipazione comunque insomma moltissimi partecipanti e vuoi dirci dell'altro? Quanti camminanti? Quanti correnti? Sì allora abbiamo allora il numero preciso non ce l'ho perché non ho ancora sentito i ragazzi della segreteria però erano adesso ti ripeto il numero preciso non posso dartelo rischierei di dirti in castronerie erano veramente tanti la particolarità è che quest'anno abbiamo fatto guidare la camminata noi facciamo anche una camminata per la città proprio non una non competitiva letteralmente una camminata anche per i più anziani e quest'anno è guidata da una rappresentanza del calcio femminile della vis pesaro quindi abbiamo unito anche questo messaggio sui preconcetti che a volte si hanno sul mondo calcistico che è esclusivamente riservato al mondo maschile abbiamo vogliamo mandare anche questo messaggio nel messaggio già bellissimo il messaggero di pace come sappiamo di vivi città quest'altro messaggio il scusami ho detto messaggio cinque volte ma sono un pochino stanco comunque del del fatto che lo sport deve essere aperto a tutti senza alcuna distinzione di genere o di identità sessuale è questo che ci interessa trasmettere come Wisp e comunione italiana sport per tutti e certo credo sia assolutamente un messaggio assolutamente condivisibile assolutamente assolutamente mi piacerebbe dirvi in diretta chi è il primo arrivato però purtroppo ancora non li vedo e che la caratteristica qua di tesoro è che è un giro molto panoramico però la prima il primo tratto i primi quattro chilometri sono in leggera salita quindi questo è chiaramente rallenta un pochino quello che è l'ordine di arrivo eh sì ma tanto ci sono i tempi compensati questa volta perché a Bari erano già arrivati ma lì è tutto piatto quindi insomma ci sono ancora margini e hanno vita facile coraggio coraggio Simone il coraggio ci vuole mettere chi sta correndo la gara assolutamente va bene che siamo ancora una buona giornata grazie grazie mille buona giornata buona giornata e noi adesso abbiamo il collegamento con Sandro Donati l'uomo che ha coordinato questa attività per il tempo compensato che in qualche modo ha rappresentato e rappresenta un valore aggiunto di questa trentasesima edizione buongiorno 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 a tutti allora un tempo compensato elaborato con una grande attenzione rivedendo tutti i coefficienti che tipo di risultato darà? Eh beh dal punto di vista della compensazione altimetrica piuttosto preciso eh questa della collaborazione con l'istituto di scienza dello sport è una lunga storia iniziata con il professore Dalmonte tanti anni fa quindi anche simpatica se vogliamo è anche unica originale al punto che noi pensiamo di farci sopra uno studio scientifico che svilupperemo prossimamente. Beh professor Dalmonte se c'è di mezzo lui non può che essere originale l'uomo che ha inventato le ruote lenticolari l'uomo che ha inventato e questo magari lo sanno meno no? Il berretto con il piumbo sulla parte posteriore per alleggerire la cervicale uomo capace di pilotare aerei di creare macchinari nuovi un genio ricco di inventiva. Sì 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 un uomo eclettico che ha dato proprio in là diciamo alla scienza dello sport in Italia e ancora adesso sarebbe in grado di dare. Assolutamente sì anche perché insomma è un uomo che ha sempre vissuto con grande vitalità e energia soprattutto impegno anche sulla parte sul fronte del doping insomma come dire presto dal monte uno avanguardia diciamo. Assolutamente avanguardia. Sandro Donati secondo lei quando si avranno poi i risultati definitivi e quindi il vincitore assoluto del di vivi città? Beh ma siamo è tutto tutto pronto le tabelle sono tutte predisposte quindi tutto in automatico e ogni ordine d'arrivo viene subito paragonato all'indice di compensazione in ogni città e quindi viene riportato subito ad un valore assoluto comparabile in tutte le città italiane immediato. Eh no immediato il mio quando era proprio temporale nel senso adesso sono le 10.09 secondo lei perché ora si avrà questo nome? Ma eh credo che dopo 20 minuti dalla fine della gara sia possibile già sapere tutto. Beh insomma questo è già un buon un buon dato vedremo se sicuramente tenteremo di rimanere in ondanzi ci proveremo senza indugio insomma no per poterlo dare quindi magari ci risentiremo più in là per per avere questo questo nome insomma il frutto di questo primo lavoro a coefficienti rivisti questo tempo compensato. D'accordo buongiorno a dopo. Grazie infinite a Sandro Donati beh insomma no sarebbe importante riuscire a dare questo nome. Assolutamente tra l'altro come dire sarebbe un ulteriore diciamo risultato che che portiamo a casa con questa grande capacità di 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 Sandro Donati che ha coordinato anche altre competenze professionali appunto ingegneri che hanno ristudiato i coefficienti e che quindi ci permettono anche nel giro di pochissimo tempo insomma di poter di poter dare la classifica. Mi premeva un passaggio Sandro se mi permetti interessante dai collegamenti che abbiamo fatto di come il Vivi Città una corsa insomma una gara podistica possa dare l'idea di 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 un macramè di valori no di un macramè di temi ed è credo il grande valore della pratica sportiva con noi della della Wisp lo sport per tutti insomma lo sport deve essere sempre un come dire un segno proteso verso verso il progresso quindi toccare temi di questo tipo e caratterizzare anche le 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 gare le città in cui si sta si sta svolgendo credo che sia davvero un grande segnale soprattutto in questa fase storica non solo al nostro paese ma come dire all'Europa e al mondo ecco io credo che ci sia davvero bisogno di una spinta di una riflessione vera e su sui temi che portano il progresso delle persone dell'umanità insomma voglio dire sempre sempre avanti e non segnare il passo con il rischio voglio dire di di fermarsi o di tornare addirittura indietro sul tema dei diritti acquisiti ecco noi come Wisp siamo sempre molto molto diciamo spinti in avanti ecco su questo e momenti di riflessione come il Vivicità credo aiutino corre nel suo tempo insomma no quindi varia tra l'altro c'è chi ha corso anche ben altro come Giacomo Leone che è un altro come dire testimone di tutto questo buongiorno Giacomo Leone buongiorno a voi e allora tra correre una maratona a Venezia e correre Vivicità la differenza più grossa esclusa la distanza ma la differenza è lo spirito con cui si affronta il Vivicità uno spirito sia agonistico per i top atleti ma soprattutto di solidarietà il tema dei diritti di città negli anni ha sempre sposato delle iniziative solidali e forse per questo è continuo ad essere un appuntamento importante del campanorama nazionale della Corsa su strada affiancare agonismo a solidarietà a dare la possibilità a tante 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 famiglie di respirare una giornata di sport e libertà nel cuore delle città è qualcosa che stimola tutti a mettersi in gioco e essere nel loro piccolo protagonista Giacomo per chi ha vissuto un maratone di alto livello in qualche modo c'è anche in quel tipo di manifestazione c'è qualcosa di vivicità perché si corre si corre insieme no qualunque sia la provenienza il colore la religione le convinzioni si corre insieme faccio un esempio che può sembrare banale come quello della livella di Totò nella Corsa alla fine non importa che tu sia un manager uno sportivo di altissimo livello o un docente universitario o l'operaio della mattina si corre e si è tutti allo stesso livello si corre tutti insieme ci si confronta tutti insieme e si taglia il traguardo uno per volta in genere l'elemento agonistico poi inevitabile insomma però ecco è molto bella questa questa testimonianza c'è anche un atleta di alto livello che ha vissuto vivicità assieme a grandi maratone grandi impegni internazionali ha avvertito questo questa sensazione no che in qualche modo si amplifica visto l'ampio numero di partecipanti sì sicuramente ma poi soprattutto se è l'altra genialità del vivicità no l'aver studiato un algoritmo per fare sì che tutti i percorsi a latine avessero una un tempo ponderato quindi fare una classifica nazionale indipendentemente che tu abbia posto a venezia a roma a pari a madera e questo algoritmo ti permette di confrontarti con tutt'italia contemporaneamente ed è vero una classifica unica e sì anche perché insomma ricordiamolo per chiunque corra a qualunque livello il tempo e il riscontro rispetto alla categoria è sempre molto rilevante sì 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 alla fine l'uomo è fatto per confrontarsi e agonizzare il seno si è voluto per lo spirito di di competizione quindi rimane anche nella vivicità alla fine ponta almeno per me che l'ho fatto qualche qualche volta soprattutto vincere scusate mi ti dico questo no certo io infatti stavo per dire è fondamentale no cioè il parametro per 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 gente come te o bordino da altri è la vittoria assoluta e magari ci sono però persone che hanno con obiettivo scendere sotto le quattro ore o sotto le tre ore o sotto le due impossibile ancora non c'è mai riuscito nessuno ma insomma siamo pian piano ci avviciniamo manca poco manca realmente poco sì qualcuno dice che qualcuno ci sia già arrivato informalmente ma insomma adesso al di là di questo soprattutto l'obiettivo è un elemento rilevante in qualunque tipo di attività in cui l'agonismo si declina ovviamente per categorie aspettative e generi ma in questo caso la vivicità si lega anche a molto molto altre sì come ho già detto il bello di vivicità è che questa giornata tu vivi la città sei la padrone della città e non importa realmente se tu sei in testa o verso la fine del del gruppone che corre però sei protagonista sei padrone della tua città sentire l'ambiente della città e la guardia della tua città in un ottica completamente diversa giacomo grazie infinita no eh vincenzo no dice sì ne approfittavo giacomo grazie per per la tua presenza e per la testimonianza tu provavi a scusarti prima ma secondo me non c'è come dire per il risultato no per la riflessione che faceva il risultato no no certo ma non c'è da scusarsi nulla anzi io credo che la testimonianza tua di gelindo prima di di Stefano Mei siano proprio come dire no la 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 cartina al tornasole del della buona riuscita e della buona intuizione del vivicità professionisti atleti che hanno raggiunto grandi risultati come tu hai fatto la maratona di New York eccetera e come dire che riescono a vivere lo spirito vero del vivicità che è quello che esattamente tu raccontavi riappropriarsi del proprio corpo del proprio passo e della propria corsa per riflettere sulla qualità della vita all'interno delle città delle comunità e quindi renderla chiaramente migliore con la testimonianza sportiva ecco volevo sottolineare questo un altro modo di vivere le nostre città libere dal traffico e a misura d'uomo o anzi a passo d'uomo esattamente a passo d'uomo potrà essere il prossimo slogan di viscita grazie infinite Giacomo grazie a Giacomo Leone e a passo d'uomo potrebbe diventare a passo d'uomo è un librettino fatto diciamo scritto a suo tempo con una serie diciamo contenente una serie di riflessioni appunto sulla pratica sportiva e sul valore sociale della stessa da un nostro indimenticato presidente nazionale Gian Mario Missaglia che è stato appunto presidente per lungo tempo nazionale della nostra della nostra associazione quindi è una delle come dire delle impronte ecco in questo caso non carbonica ma delle impronte appunto di sostenibilità che come eredità lui ha lasciato e che noi continuiamo chiaramente a perseguire anche perché insomma è giusto così Orlando Giovannetti da Frosinone buongiorno 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 a tutti buongiorno ai radioascoltatori buongiorno al nostro presidente ciao Orlando ciao caro ciao ciao grande eh qui finalmente finalmente visto che stiamo in tema eh questa unione civile funziona con la città abbiamo ripreso a collaborare perché nel nostro comitato l'assio sud est che non è un cartello autostradale ma pensi è un comitato eh Castelli Frosinone tutta la provincia eh che devo dire noi avevamo avevamo un po' allontanato la cosa di di città perché è un comitato nuovo eh abbiamo ripreso stanno con la collaborazione devo ringraziare qui il comandante tutti i militari perché stiamo dentro all'aeroporto in realtà è un eniporto di Frosinone un'organizzazione perfetta ma quando ci stanno i militari è sempre perfetta comunque siamo contenti abbiamo fatto abbiamo prego forse abbiamo perso Orlando Giovannetti che tra l'altro faceva riferimento a questa rinnovata prego è andato pronto? Sì sì la sentiamo adesso eh perché mi stavano chiamando dalla sede centrale perché siamo tutti collegati in rete e eh me so perso però aiutatemi che stavo a dire parlavi dell'eriporto parlavi dell'iniziativa lì all'eriporto sì all'eriporto infatti infatti è una bella iniziativa è è un percorso tutto pianeggiante meno male se no non era un aeroporto e abbiamo abbiamo iscritti 465 però abbiamo anche il settore giovanile abbiamo anche il settore giovanile saranno adesso non lo so perché si stanno scrivendo adesso con le varie categorie saranno centinaio di ragazzi e ragazze ecco io oggi per me è una giornata felice è una giornata che ci contavo ci contavo grazie grazie a tutti quanti insomma grazie a lui grazie alla vita grazie al comandante che sta qui vicino però non può parlare perché sono militari è certo come si diceva prima non hanno mi ha detto non ho chiesto non ho chiesto l'autorizzazione no no non può certo certo bisogna anche bisogna anche pensare a queste cose però insomma le bisogna accettarli le ha ringraziati lei lo facciamo anche noi insomma peccato che tutto questo percorso piatto farà molto come dire farà la gioia di chi ha faticato un poco meno però immagino che sarà penalizzato dal tempo compensato pensi che la prima la prima e la seconda edizione quando ci siamo insediati con questo comitato l'abbiamo fatto affrascati c'era qualche salita in giù non si poteva fare è una cosa di fatti penso che siamo arrivati ultimi come tempi va bene però l'importante l'importante è da andare avanti come dice il nostro presidente il censo e poi l'uguaglianza in gioco e questo è fondamentale grazie ciao ciao e beh un entusiasmo che saperte come dire veritiero oltre che verace insomma no sì perché appunto questa ripresa poi anche di diciamo di un nuovo ingresso rinnovato ingresso ecco del del comitato lazio sud est come dire ecco arricchisce chiaramente i percorsi arricchisce chiaramente anche la 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 classifica mi permette di inserire il dato fidal no perché insomma una collaborazione che si è fatta un po' più stretta ultimamente sì fabio pagliara ha partecipato alla presentazione non per un caso immagino anzi eh segretario ne approfitto per ringraziare non soltanto appunto fabio ma anche al fio giomi che in quell'occasione non non poteva essere appunto presente ma abbiamo avuto eh l'onore lo devo dire proprio della presenza di fabio ci teniamo tantissimo che la fida la ci fosse la presentazione delle vivicità l'altro giorno in conferenza stampa perché non c'è soltanto questo questo matrimonio tra l'altro anche eh fertile eh come dire fecondo rispetto all'esperienza del vivicità ma anche altri progetti che stiamo cercando di mettere insieme proprio sul fronte diciamo dello sport sociale del podismo eh in particolare che mi sembra si coniugui bene abbiamo Pietro Casu da Cagliari quindi andiamo laddove è la famosa spiaggia del Poetto laddove c'è immagino un'aria marina fantastica calve allora noi la sentiamo bene quindi ci dica insomma le sensazioni che si hanno in questo vivicità cagliaritano sì ciao da Cagliari eh non siamo proprio vicino al mare siamo eh nel cuore comunque della città di Cagliari c'è una bellissima giornata di sole eh è un grande momento di di sport per tutti veramente eh soddisfatti di quello che sta succedendo ci sono tantissime persone che corrono per la competizione ma ci sono molte più persone invece che corrono semplicemente per il gusto di eh di vivere la città e questa la eh il senso della manifestazione ma soprattutto ehm corrono tutti quanti sia i competitivi che i non competitivi eh in solidarietà per il progetto duemila e diciannove del vivicità eh contribuisce Cagliari con un grande cuore a a donare anche loro un piccolo contributo per i ehm per i profughi siniani bambini che eh che sono meno fortunati di noi. Eh bisogna sempre lanciare messaggi vivicità eh come dire lo dice la parola stessa no? Eh un un modo alternativo rispetto a quello più consueto magari di macchine, motorini e quant'altro di vivere la propria città. È accaduto anche a Cagliari e mi pare che la cosa sia andata piuttosto bene. Sì è andata benissimo è andata benissimo oltre le più rose aspettative eh quest'anno rispetto agli anni passati siamo stati fortunati eh ad avere un circuito cittadino quindi si è partito proprio dal da una delle piazze eh più importanti di Cagliari eh adesso attraverso eh un percorso che è per metà eh la parte pedonale eh della città e per metà è la parte invece quella carrabile dove passano le auto ma oggi è per il momento eh per per un'oretta saranno a riposo da una parte eh tanta gente che è venuta anche a vedere qui nelle strade limitrofe eh un un po' curiosi e un po' per gustarsi eh questa festa che è anche molto 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 colore. Pietro Casu grazie infinite quindi abbiamo scoperto grazie a voi per averci sentito un saluto da Cagliari un abbracione a tutti. Grazie ancora quindi l'unica esclusione si parla di inclusione per tutto tranne che per le auto che qualche volta in Vivi Città vengono escluse. Noi dovremmo avere collegato sì l'uomo che per primo aprì le porte della radio al Vivi Città. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Sandro. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Massimo De Luca allora capo redattore dello sport che diede in là a questo a questa iniziativa del via radiofonico che continua a essere una tradizione oserei dire inevitabile. Allora fu Sandro Ciotti e siccome mi trovavo in studio io mi sembrava davvero brutto farlo io insomma rispetto a Sandro Ciotti di tanti anni fa e quindi abbiamo scelto Gelindo Bordin che ci ha aiutato a a dare il via insomma un campione olimpico il paragone con Ciotti lo regge. Beh sì eh è un bel paragone è una bella una bella continuazione della tradizione. Diciamo che stiamo parlando di trentacinque anni fa se i miei conti sono esatti. Ottantaquattro. Trentaquattro? No millenovecentotantaquattro giusto? Eh trentacinque appunto. Giusto. No ho sbagliato solo io all'inizio che ho detto quindici non so per quale oscuro motivo. Manco è stato carino a a non correggermi però insomma mi sono arrivate le reprimende via telefono insomma diciamo che la mia aritmetica ha fatto ha avuto una falla. No e l'aspetto veramente successivo trentacinque anni fa fu l'idea che Gianmario Missaglia è compianto amicissimo Gianmario Missaglia e altri dirigenti del LUISP portarono da noi di questa corsa che all'epoca sembrava un po' fantasmagorica che doveva partire in contemporanea da tutte le città italiane con i coefficienti di compensazione che avrebbero in qualche modo parificato i risultati delle varie città. Sembrava un piccolo salto nel futuro e infatti un po' l'è stato e però è stata una bella iniziativa. E soprattutto anche tu sei nella storia di vivicità insomma. Ah beh di questo sono scoglioso. Sì per mi ricordo fra l'altro mi sembra di ricordare forse magari lo ricorda meglio di me abbiamo avuto poi ospiti anche so cantanti che 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 insieme con me poi davano il via che apprezzavano questa iniziativa insomma abbiamo fatto un po' di ammuina come era giusto che fosse come si faceva nello cercito paragonico. Ma al di là della muina che fa parte del gioco insomma non solo radiofonico. Certo no però dico la cosa rilevante che questa storia che avete iniziato insieme in qualche modo prosegua ancora oggi con questo tipo di messaggi di valori e di partecipazione. Sì ricordo anche Sandro che poi nelle edizioni successive per esempio potrei sbagliare ma penso che proprio vivicità sia stata anche un po' la prima a porre un interrogativo che all'epoca sembrava un po' provocatorio che infatti era confermato invece valido cioè siamo poi così sicuri che fare jogging, corsa, chiamiamola come vogliamo, a delle città faccia poi così bene perché si fecero anche degli esperimenti proprio sulla qualità dell'aria che si ispirava correndo nelle vie della città non certo tanto la domenica di vivicità quando il traffico si ferma ma si parlava della pratica quotidiana di chi cerca comunque di tenersi in allenamento triplando macchine, motociclette, parcheggi e quant'altro e insomma era un interrogativo che mi sembra sempre più d'attualità e che fu come sempre molto interessante all'avanguardia da parte degli organizzatori post in quell'occasione. E tu che sei avanti adesso giochi a golf così eviti il problema. E lì e lì ce lo rispondiamo sei molto più tranquillo. Infatti io ho giocato in un bellissimo campo di Franciacorta tra i vigneti della Franciacorta. Oggi mi godo le colline piacentine a casa di amici devo dire una giornata fantastica. Abbiamo un po' disturbato allora però. No è solo un piacere il timore era solo che siccome qui siamo in campagna la ricezione non è perfetta che la linea potesse cambiare ma ho trovato questo punto. Ma guarda siccome dall'altra parte del vetro c'è Edmondo Cotta e lui ha fatto di tutto per far sì che la linea fosse ottima infatti c'è riuscito. Mi sembra che così sia effettivamente. Massimo grazie infinite ti lasciamo. Grazie Massimo eh grazie mille. Grazie mille. Ciao. No lui è Vincenzo Manco. No sono Vincenzo Manco il presidente nazionale della Wisp Massimo volevo ringraziarti. No ma perbacco ma scherzi assolutamente. Volevo ringraziarti e dirti che l'orgoglio è nostro per aver avuto te in tutti questi anni come tra i tanti testimoni diciamo. Eh ma l'iniziativa è la metà suggestiva e come sempre devo dire in quel periodo così creativa così così diversa dagli standard normali che riuscì a convincere facilmente perché poi il sì non dipendeva del tutto da me naturalmente i responsabili della RAI, della radio, della rete dell'epoca lasciarci lo spazio che per fortuna credo che 35 anni dopo c'è ancora. Assolutamente sì. Grazie Massimo. Grazie grazie. Grazie a voi. Grazie a Massimo De Luca che insomma è un grande giocatore di golf tra l'altro direttore della rivista del golf e adesso abbiamo un altro degli uomini che hanno corso anche vivicità qui vi permetto di dire anche perché insomma ha corso molto altro di recente diventato anche cavaliere della repubblica. Buongiorno Alessandro Lambruschini. Buongiorno, buongiorno. Allora noi ci risentiamo a breve diciamo così dopo quella tua visita al Quirinale però anche tu hai corso vivicità. Sì, in passato sì l'ho corso diverse volte perché era una manifestazione molto bella, molto importante e noi la usavamo come test di preparazione perché c'era se non sbaglio sempre i primi di aprile. Sì. Avevo corso, mi ricordo che da Terenia correvamo sempre e andavo sempre a correre a Divorno. L'ho vinto anche una volta in 35-10 che per me era anche un tempo abbastanza buono su 12 chilometri. Poi una volta ho vinto anche Genova credo uno degli ultimi anni. E adesso invece diciamo mal di schiena a parte. Adesso sono bloccato qui sul divano perché ho un mal di schiena, un'ernia che mi fa impazzire. Però diciamo che nel momento in cui migliorerà magari il prossimo anno potresti tornare a correrlo. Ma io stavo già correndo normalmente perché insomma... No, dicevo vivicità. Sì, sì perché adesso se non ricordo male negli ultimi anni aveva cambiato un po' la formula, l'avevo trasformata in una mezza maratona. No, adesso sono 10.000 metri con un tempo compensato, con algoritmi perfetti. Sì, 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 sì. Abbiamo ridotto di due chilometri Alessandro, quindi potrebbe essere anche... Ah, di due, di due. Eh, sì. Era di dodici e adesso la abbiamo portata a dieci. A dieci, perfetto. Quindi sì, il prossimo anno... Ti aspettiamo, rimettiti con la tua ernia, rimettiti in forma. Tra l'altro c'è stato qualcuno che ha fatto una battuta quando ha sentito che eri sul divano per l'ernia, non oggi, eh, in qualche tempo fa. Ah. Tu probabilmente potrai già capire chi è che ha detto sì, vabbè, l'ernia, c'è però il divano è la costante, l'ernia è l'eccezione, ma... Sì. Il problema è che l'ernia forse non è venuta per stare troppo sul divano. Ah no, Alessandro, figurati, insomma, eh, diciamo, i tuoi successi da da... nelle siepi in qualche modo rappresentano, come dire, l'evidenza del fatto che tanto pigro poi non sei, insomma. No, vabbè, no, c'è stato... C'è stato un momento che mi sono un po' fermato sugli allori, nel senso, sulle mie caratteristiche fisiche che mi permettevano con poco allenamento di, insomma, di andare forte, ma poi per poter competere l'Olimpia, di così, insomma, dovevo darmi una sveglia, prima con Chittolini, ma dopo con il professor Gigliotti, insomma, eh, e ho cambiato atteggiamento, diciamo. Eh, per forza. Il divano c'è sempre rimasto come per recuperare dalle fatiche, dall'allenamento del mattino a quello del pomeriggio, eh. Eh beh, vabbè, però, insomma, diciamo che è un po' come il sole totuato sulla spalla, il divano è immancabile, inevitabile. Esatto. Alessandro, allora ci lasciamo con questa promessa, se la schiena lo permetterà, parteciperai al Vivi Città dell'anno prossimo. Senz'altro. Ti aspettiamo. Va bene. Grazie. Grazie. Grazie Alessandro, grazie. Buona giornata. E allora, forse abbiamo già, mi dicono, qualche risultato, addirittura quello finale, eh, ne parliamo con Massimo Tossini, che ha due meriti grandi, l'essere il responsabile nazionale di vivicità e l'altro è quello di essere un camperista. E qui, eh, buongiorno Massimo. Buongiorno, grazie per il camperista. Eh, tu sai che sono passioni che condividiamo, c'è, insomma, c'è anche un presidente di un comitato paralimpico italiano, che, insomma, ha lo stesso tipo di approccio, diciamo, turistico. Ma, insomma, andando avanti. Allora. Faremo una vacanza insieme. Ah, perché no? Lui è più bravo di noi in ritromarcia, eh, te lo dico già adesso. Allora, eh, per quanto riguarda i risultati, abbiamo già i risultati definitivi? Ma definitivi, eh, ufficialissimi ancora no, però abbiamo già dei, dei risultati, insomma. E il, eh, il vincitore al momento, eh, è Samuele Dini, che ha corso a Reggio Emilia. Samuele Dini è allenato da Stefano Baldini, altra figura storica del, del Vivi Città. E questo risultato, insomma, è quasi ci, andiamo per, per, per certo, insomma, perché il tempo è molto, molto buono. Stanno continuando ad arrivarci altri, altri risultati, eh, buoni dati di partecipazione, anche favoriti dal bel tempo, appunto, che è un po' in punto Italia e penso che fra un pochino, insomma, avremo proprio la classifica definitiva. Chiedo scusa, eh, stavo comunicando con la regia e non ho riattaccato il bottone, quindi, eh, il mondo avevi ragione. Quindi, insomma, è già, già buono sapere questo. Quindi, Samuele Dini, il primo vincitore, poi verrà ufficializzato, diciamo, tempo ufficioso ancora, ma di questa edizione del Vivi Città, la prima con un tempo compensato, diciamo così, sulla distanza quasi perfetto. Esatto. Dei dieci chilometri, sì, diciamo che è il primo dell'albo d'oro dei dieci chilometri, perché siamo partiti dai ventuno, poi siamo passati subito ai dodici e questo è il primo anno dei dieci. Soddisfatto? Come responsabile nazionale del Vivi Città? Ma sì, certamente, certamente, perché poi ora a prescindere dai risultati tecnici, chi vince, chi non vince, insomma, vincono tutti quelli che partecipano, per cui la partecipazione sembra sia stata buona, insomma, più che buona, questo chiaramente è una soddisfazione. Eh, lo credo, soprattutto per chi vive in maniera, come dire, tanto intensa, immagino per gran parte dell'anno l'organizzazione di tutto questo. Non so, il presidente che cosa ne pensa? No, penso di poter, possiamo essere assolutamente soddisfatti eh della giornata di oggi, favoriti chiaramente dal dal tempo, i numeri di partecipazione che abbiamo ascoltato tra l'altro nei vari collegamenti ci danno anche l'idea di come dire di un qualcosa in più che quest'anno siamo riusciti appunto a a mettere sulla strada e quindi come dire ad avere cittadini più attivi rispetto all' iniziativa eh che abbiamo che abbiamo avuto l'anno scorso e proprio per questo Sandro se mi permetti io davvero ne volevo approfittare per ringraziare tantissimo i volontari dei nostri comitati territoriali perché eh organizzare eventi di questo tipo che da trentasei anni riescono diciamo a dare una rilevanza nazionale e internazionale non è assolutamente facile quindi oltre a ringraziare voi per questa grande generosità anche lo dico a te a tutto Radio Uno Sport insomma che ci ha permesso questa questa bellissima diretta e questo grande risultato che ancora di più valorizza diciamo la nostra esperienza io mi ritengo assolutamente soddisfatto. Io tra l'altro non so se è ancora in linea Tossini forse sì forse no. Sì sì ci sono. L'uomo è lui c'è una donna anche? Sì dunque donna arrivano un pochino dopo però anche lì abbiamo dei dei risultati eh ancora ufficiosi. Un pochino più ufficiosi eh diciamo perché c'è sia Reggio Emilia con Joyce Mattagliano eh che Palermo con Silvia La Barbera insomma e manca ancora qualche città dove potrebbe esserci anche qualche altra donna diciamo che può inserirsi. Abbiamo dato il dato ufficioso era importante comunque no dare un un nome femminile che al momento certo può apparire come il appare come la possibile vincitrice. Grazie infinite Massimo. Grazie a loro perché per te non è finito. Ciao Massimo grazie. Invece abbiamo adesso collegato Stefano Baldini. Buongiorno Stefano. Stefano. Sandro buongiorno. Buongiorno a tutti. Abbiamo aperto con un campione olimpico di maratona quindi come di facile no? Gelindo Bordinna. Eh beh certo. Eh in chiusura troviamo te altro campione olimpico di maratona avete in comune l'aver corso anche vivicità ma adesso so che a Reggio Emilia è da da lì è arrivato il vincitore assoluto è ancora ufficioso stanno come dire controllando tutto ma Samuele Dini sembra aver vinto questa edizione di vivicità. Sarebbe una bella notizia anche perché eh lo anche perché lo alleno io prima cosa. Seconda cosa e perché è un po' un ritorno tantissima gente a Reggio Emilia io l'avevo vinta qua tra l'altro vivicità un bel po' di tempo fa eh. Eravamo ancora nel nel secolo scorso e comunque davvero il clima di oggi penso un po' in tutta Italia abbia dato una grossa mano alla riuscita di questa manifestazione che davvero sovraccoglie un bel po' di gente. Qui erano almeno settemila. Tra l'altro insomma ti stiamo dando una notizia in anteprima è ancora ufficioso però per i maschi è abbastanza vicino all'ufficiale quindi Samuele Dini appare come il vincitore assoluto di questa trentasesima edizione. Bene per lui oggi rientro alle gare dopo qualche settimana un po' difficile aveva gareggiato l'ultimo dell'anno a Bolzano poi un problema al piede abbastanza serio oggi era per lui un allenamento in progressione l'ha fatto molto bene e sono contento insomma c'è da c'è da lavorare e siamo qui apposta. Eh Stefano se no come fai hai lavorato tanto correndo adesso non puoi restare senza far nulla no? No ma continuo anche tra l'altro a muovermi ieri abbiamo corso insieme tra l'altro con Samuele l'ultimo allenamento eh lo abbiamo corso in compagnia e insomma tutte le volte che posso vado ancora bello tenersi in forma e comunque correre è anche il modo più semplice e più immediato per star bene per avere dei buoni risultati dal punto di vista della della forma fisica e anche della salute psicologica. Correre è fondamentale l'unica cosa è Samuele Dini però va più veloce. Eh in questo momento spero che vada molto più veloce ma deve fare molto meglio di così perché guardiamo avanti in eh diciamo su su traguardi che vivicità devono essere di passaggio e e verso cose molto molto più importanti perché questi ragazzi hanno un talento che non non deve essere sprecato e e bisogna stimolarli e il mio lavoro deve andare soprattutto in quella direzione. Eh attento lo sguardo credo che sia per moltissimi insomma uno sguardo volto a oriente no? Per cui verso quel top 20 venti. Sì a oriente o per i ragazzi che hanno poco più di vent'anni ancora più in là insomma sono progetti che si costruiscono eh a medio e lungo termine eh per Samuele Dini per esempio il futuro parla di di maratona perché è un ragazzo che ha fatto dei buoni risultati sulle distanze del mezzo fondo ma non può coltivare un un sogno olimpico ed essere protagonista sui cinquemila e diecimila metri anche perché è dotato per lunghe distanze e il sogno è quello di eh coltivare eh Parigi venti ventiquattro che sarà un po' il periodo della maturità per questi ragazzi che hanno poco più di vent'anni in questo momento e che invece allora saranno pronti. Eh attento considera che tra l'altro hanno già dato la notizia che a Parigi probabilmente ci sarà una una gara aperta a tutti quindi partiranno i top runner che si giocheranno la medaglia olimpica e dietro sullo stesso percorso vogliono far partire come dire i i podisti amatoriali. È una scelta che da una parte è futuro ecco lo stesso che succede anche un po' nelle nelle superclassiche del ciclismo era già successo anche sul percorso di Londra duemila e dodici che ci fosse una gran fondo di ciclismo sullo stesso percorso della della gara olimpica e la contemporaneità invece fa discutere molti perché diminuisce un po' quella che l'atmosfera dell'olimpiade eh che è una cosa molto elitaria e che in un caso del genere la fa diventare una cosa accessibile a tutti eh l'olimpiade è l'olimpiade. Questo è anche un po' il mio il mio pensiero. Sono abbastanza d'accordo credo che poi a prevalere sarà la questione perché li venderanno quei pettorali e non so quale cifra per cui vedremo insomma mi auguro. Vedremo vedremo. Se deve se proprio deve essere che insomma Camarie questo denaro serva a qualcosa di buono mettiamola così. Speriamo di sì e speriamo di avere tanti italiani in gara. Assolutamente sì sempre come dire uno in più dell'altra volta mettiamola così. Grazie Stefano. Grazie Stefano. Buona domenica a tutti. Buon vivicità. Ciao Stefano. Ciao ciao. Quindi abbiamo dato noi questa notizia. Abbiamo aperto con un campione olimpico. Chiuso con un campione olimpico credo è che non si potesse fare di meglio. A questo punto lascio a te presidente di questa UISP il compito di tirare le somme. Beh una bellissima credo manifestazione. Come dicevo prima possiamo essere assolutamente soddisfatti insomma la UISP nazionale e tutti i comitati che ci hanno messo la grande energia per portare a casa il risultato di oggi e un grande risultato anche per questa copertura io lo voglio risottolineare Sandro davvero io vi ringrazio tantissimo voi di Radio Uno Sport Radio Uno Rai insomma non come dire ci sorprende anche ci riempie di orgoglio evidentemente siamo come dire un'organizzazione che forse no no lo dico no no lo dico vabbè però lo dico onestamente perché insomma questo vuol dire ecco anche come dire con Ivano insomma la nostra organizzazione riesce evidentemente a fornire anche un'iniziativa che ecco è capace di Magliorella Magliorella assolutamente per come dire capace ecco dicevo di di coprire anche come dire occasione di comunicazione di sport come questa e ancora una volta siamo riusciti credo in quest'ora ora e mezza che abbiamo passato insieme a far riflettere no far riflettere diciamo cittadini persone ecco abbiamo raccontato storie abbiamo raccontato città abbiamo raccontato eh territori abbiamo raccontato temi eh ripeto lo sport per la Wisp è questo credo che lo sport eh dovrebbe essere questo per tutti dovrebbe essere diciamo quella parte di politiche pubbliche capace di coniugare i grandi temi spesso lo si dice nelle tavole rotonde ma altrettanto spesso lo si pratica diciamo molto meno lo voglio dire in termini molto generali ecco esatto e ancora una volta invece abbiamo eh dato come dire la dimostrazione che una gara podistica occasioni di 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 passeggiate di camminate quindi sono anche occasioni di incontro per intere famiglie persone cittadini che eh trovandosi discutendo e facendo anche delle chiacchiere tra di loro evidentemente saranno usciti come dire anche molto più arricchiti ecco arricchiti conoscendo meglio la propria città conoscendo meglio i propri luoghi e magari con questa esperienza di cittadinanza attiva attraverso la pratica sportiva poter dare poter dire anche la loro magari a chi ha in mano poi la decisione per migliorare la qualità della vita della nostra città l'unica certezza che si esce da tutto questo sorridendo perché assolutamente accade in ogni città tra l'altro c'è l'atletica vaticana che potrebbe essere come dire no il prossimo ingresso non tanto l'atletica vaticana che potrebbe partecipare ai giochi dei piccoli stati e magari un giorno anche all'olimpiadi ma perché si potrebbe fare un un pezzo di vivicità anche all'interno del vaticano assolutamente un gemellaggio auspicabile diciamo perché no allora edgargo edmondo cotta intanto un grazie visto visto che siamo andati ben oltre il dovute grazie a Vincenzo Manco presidente dell'UISP grazie a voi che ha fatto ben più di quel che gli era come dire attribuito per ruolo quindi grazie anche per aver digitato per noi tutti questi numeri e noi ci ritroveremo per quanto riguarda Radio Uno Sport